X-Men vs Street Fighter l'abbiamo finito con Ciclope. I nostri eroi hanno distrutto la base di Apocalisse, ora è tornata la pace. Finalmente gli umani e i mutanti possono vivere in pace. Avete visto che fa Ciclope? Ringrazia Ryu e gli dice Sei un bravo guerriero, un ottimo combattente. E infatti Ciclope e Ryu sono diventati amici. Ora gli X-Men continueranno a lottare per noi, visto che sono dalla nostra parte. E' stato un bel lieto fine.